Nuovo ordine vintage, questa volta ho venduto questo rossettino di MAC era un'edizione limitata per una collezione di Barbie che è uscita qualche annetto fa non l'ho mai utilizzato in realtà perché è un colore nude, sì però non lo so, non lo volevo rovinare ai tempi ragionavo così, ora ho smesso quello che si compra si usa fatto sta che ho deciso di venderlo e l'ho venduto a 12 euro quindi secondo me è un affarone unica cosa non ho più la sua scatolina quindi ho dovuto accartocciarlo nel cartone giusto per proteggerlo mi raccomando come sempre lasciate i vostri vintage così ci aiutiamo un pochino e poi la cosa più noiosa è l'inscatolamento ovvero scegliere la scatola, mettere tutte le protezioni varie lo scotch, raga che noia mettere lo scotch e scocciare tutto invece una cosa molto divertente è scegliere gli omaggi oggi come sapete sto omaggiando con le mie pietrine quelle in eccesso le metto un po' nella scatola metto anche un adesivo, insomma un paio di adesivi perché se li merita tra l'altro qui ne avevo trovato uno difettato questa farfalla è a metà, letteralmente quindi ne ho scelta un'altra e gliel'ho messa nel pacco e niente, poi appunto ho scocciato tutto ho messo l'etichetta e niente, ho finito spero ti piaccia il pacco pronto muah grazie grazie